Ponti sotto osservazione a Padova lungo la tangenziale non si tratta di un vero e proprio cantiere ma in queste ore i tecnici del comune con strumenti di misura stanno controllando lo stato di salute dei ponti che sostengono la tangenziale per capire se siano necessari di lavori di manutenzione o di consolidamento. Un lavoro fatto nel più breve tempo possibile che provoca qualche inevitabile disagio nelle ore di punta, lavoro segnalato anche dai pannelli luminosi presenti in corrispondenza degli autovelox. La sicurezza delle nostre infrastrutture è una priorità per questa amministrazione su alcuni ponti siamo già a lavoro, sono anni che non si mettono le mani. Dopo il cantiere estivo che ha ristrutturato completamente il ponte di via Vigonovese ci sono oltre 200 ponti che attendono una verifica lungo la tangenziale i più delicati. In questo periodo stiamo facendo la verifica di tutto il tratto che serve la zona industriale e questa è una verifica importante perché coincide anche con il tratto in cui queste attraversamenti sono più sollecitate specie dai carichi pesanti. L'obiettivo finale è quello di far transitare in sicurezza i tir oltre le 44 tonnellate di peso e questa verifica infatti è fatta in sinergia con gli autotrasportatori. I risultati dell'analisi arriveranno in brevissimo tempo e serviranno per gestire il transito dei mezzi super pesanti, quelli che mettono a dura prova la struttura dei ponti padovani.